I numeri che passano da Lampedusa sono veramente irrisibili in confronto al tema della migrazione irregolare di tipo economico. Altre persone, probabilmente, nei panni del primo cittadino di Lampedusa, disegnerebbero un quadro di emergenza straordinaria pur di rastrellare risorse. Invece Giusi Nicolini, anche dopo la tragedia del 3 ottobre nella quale sono morti 366 migranti, continua a dire che, se si vuole, la questione dell'immigrazione si può affrontare. E lo ha ripetuto anche nel liceo Flacco di Bari, ai ragazzi con i quali ha parlato del libro che Marta Bellingreri ha scritto a quattro mani con lei, Lampedusa, conversazione su isole, politica e migranti. Gli aurti comunitari consistono in centinaia di milioni di euro. Mi auguro che non vengano spesi tutti per Mare Nostrum, che non è la soluzione al problema, non è così che si evitano i naufragi e che si liquida la questione del diritto d'asilo e mi auguro invece che vengano pianificati con una strategia per strutturare sul territorio nazionale un'accoglienza diffusa, umana e dignitosa. Una situazione insostenibile, ma per le colpe degli uomini, secondo Nicolini, che invita a non scaricare solo sull'ultimo anello della catena le responsabilità dei maltrattamenti emersi nei giorni scorsi sulla stampa nazionale. È ovvio che quella pratica è una pratica che chiunque si sarebbe dovuto rifiutare di fare, ma temo che si stia liquidando la questione lampedusa facendo pagare all'ultimo anello della catena un prezzo che invece non è tutto lì, le responsabilità non sono tutte lì, quello è l'ultimo anello di una catena.